buon pomeriggio a tutti benvenuti a questa nuova puntata di lettura dantes come sapete leggiamo oggi il canto 24 del paradiso e come il nostro solito da quando siamo in questa modalità online leggiamo tutto di seguito poi cominciamo la spiegazione facciamo una pausa un certo punto durante la quale vi chiedo di farmi delle domande sulla chat e poi riprendiamo alla fine leggiamo tutto di nuovo osso d'alizio eletto alla gran cena del benedetto agnello il qual vi ciba sì che la vostra voglia è sempre piena se per grazia di dio questi preliba di quel che cade della vostra mensa prima che morte tempo gli prescriba ponete mente all'affezione immensa eroratelo alquanto voi bevete sempre del fonte onde vien quel che i pensa così Beatrice e quelle anime liete si ferò spere sopra fissi poli fiammando volte a guisa di comete e come cerchi in tempra d'ori vuoli si giran sì che il primo a chi pon mente quieto pare e l'ultimo che voli così quelle carole differentemente danzando della sua ricchezza mi facciano stimare veloce e lente di quella che io notai di più carezze vi di uscire un foco sì felice che nulla vi lasciò di più chiarezza e tre fiate intorno di Beatrice si volse con un canto tanto divo che la mia fantasia non mi ridice però salta la penna e non lo scrivo che l'immagine nostra coda i pieghe non che il parlare è troppo color vivo o santa suora mia che si ne prieghe divuta per lo tuo ardente affetto da quella bella spera mi disleghe ho sciaffermato il foco benedetto alla mia donna drizzolo spiro che fa bello così come ho detto ed ella o luce eterna del gran viro a cui nostro signor lasciò le chiavi che i portò giù di questo gaudio miro tenta costui di punti lievi e gravi come ti piace intorno della fede per la qual tu su per lo mare andavi se li ama bene e bene spera e crede non te occulto perché il viso ai quivi dove ogni cosa dipinta si vede ma perché questo regno ha fatto civi per la verace fede a gloriarla di lei parlare e benché a lui arrivi siccome il baccellier s'arma e non farla finché il maestro la question propone per approvarla non per terminarla così marmava io d'ogni ragione mentre che la dicea per esser presto a tal coerente e a tal professione di buon cristiano fatti manifesto fede che è con dio le vai la fronte in quella luce onde espirava questo poi mi volsi a beatrice della pronte sembianze femmi per chi io spandessi l'acqua di fuori del mio interno fonte la grazia che mi dà che io mi confessi comincia io dall'alto primipilo faccia gli miei concetti ben espressi e seguitai come il verace stilo ne scrisse padre del tuo caro frate che mise teco roma nel buon filo fede e sostanza di cose sperate e l'argomento delle non parventi e questa pare a me sua queritate allora udì direttamente senti se ben intendi perché la ripuose tra le sostanze e poi tra gli argomenti e io appresso le profonde cose che mi largiscono qui la loro parvenza agli occhi di laggiù sono sia scuse che l'esser loro vei in sola credenza sopra la qual si fonda l'altastene e però di sostanza prende intensa e da questa credenza ci convene silogizzare senza avere altra vista però intensa d'argomento tene allora udì se quantunque s'acquista giù per dottrina fosse così inteso non gli avria loco ingegno di sofista così sperò di quello amore acceso indi soggiunse assai bene trascorsa desta moneta già la lega in peso ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa on dio si o si lucida e si tonda che nel suo conio nulla mi si inforsa a presso uscì della luce profonda che gli splendeva questa cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda onde ti venne e io la larga ploia dello spirito santo che diffusa in sulle vecchie in sulle nuove cuoia essi il logismo che la ma conchiusa acutamente sì che in verso della ogni dimostrazione mi pare ottusa io udì poi l'antica e la novella proposizione che così ti conchiude perché l'hai tu per divina favella e io la prova che il verme di schiude son l'opere seguite a che natura non scalda ferro mai ne batte incude risposto fummi di chi ti assicura che quello bere fosser quel medesmo che vuol provarsi non altri ti giura se il mondo si rivolse al cristianesmo dissi io senza miracoli quest'uno è tal che gli altri non sono il centesmo che tu intrasti povero e digiuno in campo a seminare la nuova pianta la buona pianta che fuggia vite e ora è fatto pruno finito questo l'alta corte santa risonò per le speri un dio laudamo nella melode che lassù si canta è quel baron che si diramo in ramo essaminando già tratto ma vea che all'ultime fronte appressavamo ricominciò la grazia che donnea con la tua mente la bocca t'aperse infino a qui come aprirsi dovea sicchio approvo ciò che fuori emerse ma or conviene spremere quel che credi e onde alla credenza tua soffersi o santo padre e spirito che vedi ciò che credesti sì che tu vincesti verlo sepulcro più giovani piedi comincia io tu vuo ch'io manifesti la forma qui del pronto creder mio e anche la cagione di lui chiedesti e io rispondo io credo in uno dio solo ed eterno che tutto il cielo muove non moto con amore con disio e a tal creder non ho io pur prove fisiche metafisiche ma dalmi anche la verità che quinci piove per moise per profeti e per salmi per l'evangelio e per voi che scriveste poiché l'ardente spiro di fealmi e credo in tre persone eterne e queste credo un'essenza si una e si trina che soffera congiunto sono ed este della profonda condizione divina che io toccomo la mente mi sigilla più volte l'evangelica dottrina questo è il principio questa è la favilla che si dilata in fiamma poi vivace e come stelle in cielo in me scintilla come il signor che ascolta quel che piace da india abbracci il servo gratulando per la novella tosto che al si tace così benedicendomi cantando tre volte cinse me siccome otiacqui l'apostolico lume al cui comando io avea detto sì nel dirgli piacque allora forse ricorderete che il canto ventitresimo che abbiamo letto la settimana scorsa era finito con il trionfo di cristo che esprimeva il proprio affetto verso maria perché mentre lei dietro cristo saliva di nuovo nell'empireo loro diciamo slanciavano le fiamme verso l'alto come il bambino che appena preso il latte stende le braccia verso la mamma quindi evidentemente qui dante sta ancora guardando quelle anime che restano lì per soddisfare dante ma in qualche modo accompagnano con l'affetto maria verso l'empireo e in questo canto come forse avrete intuito il grande protagonista è san pietro la cui presenza nel trionfo di cristo era stata annunciata nell'ultimo verso del canto ventitresimo dove dante diceva che tra di loro era quello che aveva le chiavi di questo di questa gioia del paradiso quindi inizia il canto con delle parole di beatrice ma che sappiamo che sono state dette da lei solo al verso decimo come se dante mentre guardasse quelle fiamme fosse sorpreso dalla voce della sua donna e così diciamo la propone a noi senza verbi di introduzione quindi osso d'alizio etterno scusate osso d'alizio eletto alla gran cena del benedetto agnello cioè da beatrice diciamo attraverso questo vocativo si riferisce ai salvati che sono stati eletti al grande banchetto dell'agnello metaforicamente diciamo quelli invitati a mangiare nella cena eterna del paradiso cristiano il quale cioè l'agnello vi cibassi che la vostra voglia è sempre piena cioè l'agnello vi alimenta spiritualmente in un tale modo che il vostro desiderio è sempre appagato allora questo è molto interessante lo vedremo più avanti perché è appunto condizione di tutti i salvati l'abbiamo detto più volte eh il fatto di avere totale pace ma quello che è più difficile da capire eh per noi appunto è che queste anime hanno un desiderio qui detto come la vostra voglia ma sempre soddisfatto cioè il paradiso dantesco non è annullamento del desiderio bensì desiderio persistente ma soddisfatto senza alcuna mancanza e appunto eh eh ora vedremo come diciamo nelle parole di Dante appare questo desiderio appunto come eh motore di tutto l'universo allora dopo il vocativo eh diciamo a coloro che mangiano dal banchetto cristiano al verso quarto se per grazia di Dio questi preliba cioè se per straordinaria grazia divina questo mio amico Dante assaggia cioè preliba di quel che cade della vostra mensa cioè di quello che dal vostro tavolo cade prima che morte tempo gli prescriva quindi prima che la morte stabilisca che i suoi giorni nel mondo eh sono terminati ponete mente all'affezione immensa e oratelo al quanto voi bevete sempre del fonte onde viene quel che pensa cioè eh eh eroratelo vuol dire lanciategli insomma un po' di quello che voi bevete eh cioè eh annaffiatelo diciamo dalla vostra sapienza perché voi e non lui che è mortale state sempre bevete sempre bevete dalla fonte dalla quale proviene ogni verità e ogni suo pensiero allora questa metafora secondo cui eh Dante sarebbe quello che riceve diciamo le briciole che cadono dal tavolo eh al cui banchetto sono invitati quelli che sono già salvati ricorda non solo diciamo dei passi scritturali del Vangelo di Luca e dell'Apocalisse ma puntualmente anche eh l'inizio del convivio del trattato filosofico di Dante in cui lui in apertura quando propone eh di condividere con i lettori in lingua volgare eh questa sapienza che fino ad allora era stata prerogativa del soprattutto della classe ecclesiastica perché il sapere era tradizionalmente trasmesso in latino Dante è il primo a scrivere un trattato di filosofia in una lingua vernacola in una lingua volgare naturale per giustificare questo suo gesto che di cui diciamo Dante è consapevole della sua straordinaria novità quella di parlare di filosofia e di teologia nella lingua nella quale parlano anche le donne e i bambini Dante si serve appunto di questa metafora del banchetto appunto la parola convivio vuol dire banchetto al quale dice di non essersi seduto direttamente cioè eh lui diciamo dichiara umilmente di non essere un filosofo diciamo professionista ma di essere stato sempre sotto il tavolo ricevendo le briciole che cadevano da questo banchetto del pane degli angeli cioè della filosofia e che appunto quelle briciole sono quelle che vuole condividere con tutti i lettori quindi è interessante che eh qua diciamo eh Dante venga messo diciamo dalle parole di Beatrice nella condizione appunto che apre il convivio cioè di quello che ha ricevuto quelle briciole quindi il Dante tornato al mondo potrà appunto condividere quello che ha preso in questo caso di teologia eh con i mortali allora al verso decimo si sono chiuse eh le virgolette scusate che sto sentendo dei rumori strani e siccome non ho l'assistente devo fare da me allora così Beatrice e quelle anime liete si ferospere sopra fissi poli fiammando volte a guisa di comete cioè le anime liete che erano lì che eh si sono eh appena eh salutate con Cristo e Maria che sono stati eh diciamo si sono sollevati diventarono sfere sopra poli fissi fiammeggiando facendo giri volte come comete come stelle cadenti e ora Dante per rendere eh la diversa velocità con la quale giravano queste anime si serve di una similitudine davvero molto molto interessante e molto audace al verso tredici e come cerchi in tempra dori uoli si giransi che il primo a chi pon mente quieto pare e l'ultimo che voli allora come gli ingranaggi dell'orologio meccanico che girano in modo che chi ci fa attenzione uno quello centrale all'aspetto di essere quieto perché si muove così lentamente che l'occhio non percepisce il movimento e l'ultimo cioè quello più periferico più lontano da quello centrale sembra che voli talmente velocemente gira così quelle carole differentemente danzando della sua ricchezza mi faci enostimar veloci e lente nello stesso modo quelle eh eh luci danzanti danzando in modo differente e qui detto attraverso un'atmesi cioè l'unica volta in tutto il poema in cui Dante interrompe una parola in questo caso un avverbio diciamo in mente con questa inarcatura lessicale che rende il carattere un po' eh non del tutto fluido degli ingranaggi dell'orologio così mi dimostravano la loro pienezza di felicità la ricchezza attraverso la velocità più o meno intensa cioè danzando veloci e lente ora perché dicevo che eh questa similitudine dell'orologio meccanico è molto audace perché ehm era veramente tecnologia di punta l'orologio meccanico quando Dante scrive era un'invenzione molto recente eh la cui presenza in un libro eh addirittura in un luogo nel quale eh diciamo si sta descrivendo qualcosa di così astratto e sublime come la condizione delle anime del paradiso è davvero sconvolgente è una è come se oggi qualcuno che sta scrivendo sull'amore divino si servisse eh diciamo come metafora dell'ultimo modello di iPad eh che stanno usando i ragazzi cioè voglio dire oggi per noi l'orologio meccanico è ormai diciamo addirittura una cosa un po' vecchia anche se continua ad usarsi e poi chiaramente bella da vedere no? Però all'epoca era ritenuto una cosa appunto ehm di 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 avanzata e e quindi è una uno degli elementi che ci permettono di valutare eh l'apertura eh mentale linguistica di questo Dante che stava attento ad ogni fenomeno della vita che lo circondava e ogni cosa che vedeva insomma si sentiva legittimamente abilitato a mettere nel suo libro per descrivere questo viaggio eccezionale allora Dante vede come queste queste anime fanno dei ginotondi girano in modo più o meno veloce e eh al verso diciannove di quella che io notai di più carezza cioè in quella danza che io notai eh più veloce e quindi Dante deduce che sono le anime che godono di più della visione di Dio vi dio uscire un fuoco si felice che nulla vi lasciò di più chiarezza cioè io vi dio uscire un fuoco così raggiante vi ricordate che dalla luce Dante desume che eh sia felice che non lasciò in quella danza nessun altro di maggior chiarezza quindi eh chiaramente questo eh quest'anima che eh esce diciamo dalla sua danza circolare per avvicinarsi a Dante Beatrice è il più alto di quelli che sono lì infatti secondo alcuni dantisti questa eh questa ruota diciamo che lui vede con più chiarezza e probabilmente è quella formata dagli apostoli eh perché appunto eh da da questo gruppo seletto usciranno i tre personaggi che saranno protagonisti di questo canto del prossimo e anche del ventiseiesimo e allora un'anima esce luminosamente eh dalla ruota e al verso ventidue e tre fiate intorno di Beatrice si volse con un canto tanto divo che la mia fantasia non mi ridice allora e girò si volse attorno a Beatrice tre volte questo tre siamo già abituati al fatto che eh sia presente diciamo a diversi livelli del libro ma è probabile che in questo caso ehm questo girare tre volte stia anticipando che quello che farà quest'anima ora che sarà interrogare Dante sulla prima delle virtù teologali cioè sulla fede sarà uno dei tre esami eh che Dante dovrà appunto approvare eh nel in questo cielo delle stelle fisse prima di salire al cristallino o primo mobile allora il canto era tanto divino che dice Dante ora che sta scrivendo la sua fantasia non glielo ripete quindi è uno dei casi in cui ne abbiamo parlato a lungo la settimana scorsa il topos dell'ineffabile non riguarda solo la limitatezza del linguaggio umano bensì addirittura la capacità eh diciamo immaginativa cioè la fantasia del Dante scrittore che una volta tornato al mondo inevitabilmente ha recuperato eh la sua mortalità e quindi la divinità di quel canto non la può recuperare e come ha fatto anche altre volte al verso venticinque però salta la penna e non lo scrivo che l'immagine nostra a cota i pieghe non che il parlare è troppo color vivo beh questo ehm questo questa immagine di questi versi ventisei ventisette davvero eh molto interessante intanto una sinestesia vero perché quello che Dante dice di non poter non solo descrivere ma nemmeno recuperare dentro la sua fantasia è una musica e qui invece giustifica questa sua impossibilità attraverso l'immagine della pittura perché dice già che cioè io la mia penna lo salta questo non lo può scrivere già che la nostra facoltà immaginativa l'immagine nostra davanti a queste pieghe cioè le pieghe chiaramente eh dobbiamo immaginarle di un tessuto no di di una eh di una stoffa davanti a queste pieghe non solo la parola ma anche la nostra immaginativa e di colori troppo vivi cioè è interessante questo perché eh mentre in altri casi l'ineffabilità dipendeva da un'intensità estrema che non poteva essere raggiunta né dalla mente né dalla parola in questo caso è invece eh il chiaroscuro di questa musica cioè le sfumature sottili che qui sono dette dei colori ma sta parlando dei suoni del canto eh eh divino che non può descrivere per rendere il quale l'essere umano a colori troppo netti troppo vivaci senza poter rendere la sottigliezza la soavitas eh di quei colori che sinestesicamente Dante attribuisce alla musica quindi ci permette di immaginare qualcosa di molto dolce di molto sfumato vero? E allora il eh questa quest'anima che intuiamo ma ora avremo la conferma è San Pietro perché altrimenti uno direbbe perché il Dante Poeta ci ha detto che là dentro c'era colui che ebbe le chiavi no? Di quella gioia si rivolge eh a Beatrice ma di nuovo ehm di nuovo chi sta parlando lo sappiamo dopo che eh abbiamo letto le sue parole quindi al verso ventisette o santa suora mia che sine prieghe divuta per lo tuo ardente affetto da quella bella spera mi disleghe cioè siccome eh eh Beatrice aveva pregato queste anime di eh eh diciamo innaffiare Dante del delle briciole eh del sapere eh diciamo perché loro bevono nella fonte eterna di Dio eh quest'anima risponde in modo individuale a questa preghiera di Beatrice dice o santa sorella mia che ci prieghi così divotamente a causa del tuo affetto ardente mi disleghi da quella bella sfera degli apostoli per venire eh all'incontro di Dante allora al verso trentuno Dante spiega chi è che ha detto questo poscia fermato il fuoco benedetto alla mia donna dirizzò lo spiro che fa vellò così com'io ho detto cioè una volta che si era fermato eh intendiamo vicino a Dante Beatrice questo benedetto fuoco indirizzò eh il respiro del parlare dicendo quello che ho appena detto no nella terzina ventotto trenta e Beatrice risponde al verso trentaquattro confermando che appunto si tratta di San Pietro ed ella o luce eterna del gran viro a cui nostro signor lasciò le chiavi che i portò giù di questo gaudio miro tenta costui di punti lievi e gravi come ti piace intorno della fede per la quale tu su per lo mare andavi allora Beatrice chiede a a San Pietro ma lo chiama attraverso questo vocativo o luce eterna del grande barone al quale il nostro signore Cristo chiaramente lasciò le chiavi che lui Cristo portò giù perché Cristo permise che si aprisse il paradiso e lasciò le chiavi a Pietro di questo gaudio miro di questo miracoloso eh miracolosa gioia prova costumi cioè Dante mettilo alla prova sui punti lievi e gravi cioè più superflui e più importanti come tu vuoi a proposito della fede per la quale tu hai camminato sul mare poi torneremo su questa scena famosissima del Vangelo di Matteo eh in cui si racconta eh vi ricordate come eh vedendo dalla barca Cristo che camminava sulle acque i discepoli si fossero spaventati pensando che fosse un fantasma ma quando Cristo gli disse no spaventatevi sono io Pietro fu il primo a camminare sulle acque anche lui se non che eh in un momento di molto vento spaventatosi eh sentiva di cadere giù e cominciò a urlare molto spaventato al punto che eh Gesù dovette eh dargli la mano e eh diciamo risollevarlo eh pronunciando le famosissime parole uomo di poca fede eh perché vi racconto riassuntivamente questo celeberrimo episodio del Vangelo perché come vedremo qua San Pietro assumerà la grandissima autorità di interrogare Dante sulla fede e sembra significativo come più avanti diremo che eh nell'episodio venga ricordato eh questo momento in cui eh Pietro mostrò una fragilità della propria fede. Allora al verso quaranta continua Beatrice se li ama bene e bene spera e crede non te occulto perché il viso hai quivi dove ogni cosa dipinta si vede ma perché questo regno ha fatto civi per la verace fede a gloriarla di lei parlare e ben che a lui arrivi. Allora per capire questa sintassi bisogna eh alterarne l'ordine cioè a te che hai lo sguardo il viso laddove si vede ogni cosa dipinta cioè in Dio non a te che vedi in Dio non ti è occulto non ti si nasconde se gli ama bene e bene spera e crede cioè se ha amore di carità se ha speranza e se ha fede eh dette nell'ordine opposto a quello eh in cui tradizionalmente si nominano le tre virtù teologali che è appunto lo stesso ordine in cui Dante verrà interrogato su di esse. Allora se lui ha fede speranza e carità non ti si nasconde perché lo vedi in Dio ma al verso 43 visto che questo regno si è popolato di cittadini ha fatto civi a causa della fede vera per glorificarla è bene che lui arrivi a parlarne quindi non come al solito diciamo ogni volta che qualcosa viene richiesta Dante di essere detta si chiarisce che la conoscenza sulla propria anima non crescerà nei salvati però sarà un modo di glorificare la fede che suoni nella parola di Dante in paradiso eh questo esame allora mentre stanno parlando Beatrice e San Pietro Dante ha intuito che tra un po' sarà esaminato e quindi comincia a prepararsi in silenzio al verso 46 finite le parole eh di Beatrice riprende il Dante poeta siccome il baccialier sarme non parla finché il maestro la question propone per approvarla non per terminarla così m'armava io d'ogni ragione mentre che la dicea per esser presto a tal coerente e a tal professione allora Dante qui inizia diciamo un paragone della sua condizione con quella del baccialiero cioè del baccalarius che era l'adulto che finiva il suo corso universitario all'università di Parigi ma anche probabilmente alle scuole fiorentine che Dante dice di aver seguito e infatti nei versi che seguono a questo ci sono diverse parole tecniche che riguardano appunto la modalità attraverso la quale si teneva questo esame finale allora per ottenere questo titolo di baccialier si doveva fare appunto un esame finale che però era in latino Dante il primo nella storia a riprodurre un esame del genere in volgare che si chiamava nella quale il maestro poneva la questione cioè proponeva una tesi e delle domande affinché il candidato a baccellier rispondesse però nella risposta come dice il verso 48 non era previsto che lo studente desse per finito l'argomento per terminarlo ma diciamo facesse quello che si chiamava l'approbazio cioè desse gli argomenti sì che il giorno dopo il maestro poi tirava le somme di quello che aveva detto il candidato e terminava la questione e dava il titolo allo studente dopo ottenendo il quale poteva poi insegnare questo è interessante perché siccome diciamo Dante qui viene esaminato come studente però siccome gli andrà bene l'esame non è che vi voglio spoiler però chiaramente se è arrivato fin lì in paradiso chiaramente non viene bocciato i titoli che si danno a Dante sono titoli che abilitano all'insegnamento alla divulgazione di queste tre virtuti ologali attraverso il suo libro allora Dante mentre parla Beatrice con San Pietro si arma senza parlare cioè comincia a ripassare no come quando uno è davanti a coloro che lo esamineranno per approvarci cioè è attento ripassando tutto affinché il maestro non pone la domanda per poi approvarla non per terminarla perché questo lo farà il maestro così io mi stavo armando di tutti i miei argomenti mentre parlava Beatrice per essere pronto di fronte a un tale coerente cioè a un maestro così alto e a tal professione a una domanda di quell'altezza e quindi al verso 52 arriva appunto la domanda da parte di San Pietro che è di una semplicità veramente commovente di buon cristiano fatti manifesto fede che è allora il vocativo è interessante perché gli sta dicendo se sei qui è perché sei un buon cristiano quindi manifestati come tale che è la fede è interessante questo no perché diciamo l'esame ben inteso anche oggi dovrebbe essere così parte dalla convinzione del maestro che lo studente sia in grado di rispondere in modo soddisfacente e la domanda quello che implica è la possibilità di fare una bella figura cioè è come se Pietro l'interrogasse dicendo io so che sei bravo dimostramelo dimmi che cos'è la fede e allora Dante che evidentemente prima era capochino come cercando dentro di sé quello che sapeva alza lo sguardo onde io levai la fronte in quella luce onde espirava questo cioè alzai la fronte per guardare la luce dentro la quale c'è San Pietro la cui parola appena riferito poi mi volsi a Beatrice ed essa pronte sembianze femmine per chi io spandessi l'acqua di fuori del mio interno fonte cioè poi guardai Beatrice e lei mi fece cenno che io lasciassi uscire fuori l'acqua che avevo internamente quindi anche Beatrice sa che Dante è preparato per rispondere semplicemente lo spinge a mettere fuori queste conoscenze e allora al verso 58 Dante innanzitutto prega la grazia che lo aiuti a esprimersi bene la grazia che mi dà che io mi confessi comincia io dall'alto primipilo faccia i miei concetti bene espressi cioè la grazia che mi permette che io confessi la mia fede all'alto primipilo primipilo è una parola tecnica bellica dell'esercito romano era il primo centuione che in prima fila appunto andava all'avanguardia quindi sarebbe il primo soldato di Cristo nella metafora Pietro appunto allora la grazia che mi offre questa possibilità di essere interrogato dal primo soldato della chiesa renda i miei concetti cioè quello che io ho concepito nella mente espressi bene, detti fuori in un modo idoneo e al verso 61 eseguitai e subito dopo disse Dante come il verace stilo ne scrisse padre del tuo caro frate che mise teco Roma nel buon filo fide è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi e questa pare ammesso a qui di Tate allora Dante qui agisce veramente come un bravo studente cioè la definizione che darà di fede la prende di un'epistola paolina dall'epistola agli ebrei e quindi innanzitutto dichiara la sua fonte dice come la penna verace ha scritto per noi padre la penna verace del tuo caro fratello Paolo che mise Roma insieme a te nella buona strada cioè come scrive la penna verace di Paolo verace perché chiaramente ispirata dallo Spirito Santo ed effettivamente qui cita quest'epistola al verso 64 fede è sostanze di cose sperate cioè il fondamento essenziale delle cose che sono oggetto di speranza è argomento delle non parventi è argomento di quelle cose che non si possono vedere e infatti nell'epistola paolina si dice appunto che la fede è la garanzia il fondamento di quello che si spera è la prova, la premessa delle realtà che non si vedono e poi umilmente Dante dopo aver citato Paolo dice a me sembra che questa sia la sua essenza la sua caratteristica specifica la cui didate con un latinismo scolastico e per fortuna qui Pietro dice che va bene questa risposta il verso 67 ma chiede ancora allora Udi dirittamente senti sebbene intendi perché la ripose tra le sostanze poi tra gli argomenti cioè qui anche Pietro fa una cosa molto didattica cioè sta cercando di far manifestare a Dante se questo che sta dicendo lo dice a memoria perché effettivamente è una citazione quasi letterale dell'epistola paolina o se invece capisce quello che sta dicendo perché effettivamente in questa risposta che ha dato Dante ci sono due parole tecniche filosofiche sostanza al verso 64 e argomento al verso 65 e allora quello che domanda ora cioè Pietro prima dice va bene quello che hai detto purché tu capisca sebbene intendi perché Paolo la mise cioè la fede la mise tra le sostanze e poi tra gli argomenti cioè tra le essenze prima infatti Dante risponderà in due momenti e poi tra le premesse concettuali che sarebbero gli argomenti e allora per fortuna Dante questa la sa e risponde al verso 70 e io appresso le profonde cose che mi largiscono qui la loro parvenza agli occhi di laggiù sono sia scuse che l'esser loro ve in sola credenza sopra la qual si fonda l'alta spene e però di sostanza prende intensa allora Dante qua secondo me diciamo anche servendosi della oscillazione tra le vocali chiuse quando parla di ciò che è sconosciuto e le vocali aperte per quello che è enorme dice le profonde cose cioè le cose così profonde che qui mi largiscono la loro parvenza cioè che qui in cielo mi offrono la loro evidenza cioè che io sto potendo per straordinaria grazia vedere direttamente agli occhi di laggiù sono sia scuse cioè nel mondo dagli occhi mortali queste cose profonde sono così nascoste che il loro essere c'è solo nel fatto che ci si creda cioè il loro essere risiede nella fede e perciò di sostanza prende intensa e perciò prende denominazione intensa di sostanza fondamento perché senza la fede quelle cose non avrebbero un essere nel mondo perché non le si può vedere altrimenti così ha giustificato la prima parte della domanda di Pietro e cioè perché Paolo la chiama sostanza la fede ora gli manca dire perché la chiama argomento e questa è la seconda parte al verso 76 e da questa credenza ci convene sillogizzare senza avere altra vista però di intensa d'argomento tene cioè e da questa fede è necessario che noi facciamo sillogismi cioè ragioniamo su queste cose senza avere la possibilità di vedere quelle cose altrimenti senza avere altra vista perciò tiene cioè merita denominazione di argomento cioè di premessa di un ragionamento cioè l'essere delle cose in cui si crede ed è la base logica sulla quale si possono costruire sillogismi visto che non c'è un'altra prova dell'esistenza di quelle cose nelle quali si crede si capisce se qualcuno non capisce per favore lo dica perché altrimenti facciamo come Pietro crede che sia Dante no cioè forse lo puoi ripetere ma non sei in grado di capire perché sostanza e nello stesso tempo la fede è anche argomento sì qualcuno mi chiede di ripetere certo allora Dante prima ha semplicemente citato Paolo ma nella definizione che ha dato di fede ha detto che era sostanza delle cose in cui si spera delle cose sperate e argomento delle cose che non si vedono delle cose non parventi che aveva detto al verso 65 e allora che aveva domandato Pietro sì sì tu dici bene però hai capito perché Paolo dici che è sostanza e anche argomento e allora Dante dice è sostanza perché le cose che noi speriamo noi cristiani chiaramente sta parlando non hanno un altro essere agli occhi del mondo che non sia la fede perché sono cose che si possono vedere solo in paradiso ma nel mondo la loro esistenza dipende dal crederci perciò è sostanza è il fondamento delle cose in cui si spera le cose nelle quali ha speranza il buon cristiano ma nello stesso tempo visto che non abbiamo prove dell'esistenza di quelle cose al di là della fede la fede è anche argomento cioè fondamento logico di un qualsiasi sillogismo che costruiamo su quelle cose ora è più chiaro o è più scuro certo sì è sostanza in termini aristotelici è l'essenza della cosa il fondamento del suo essere va bene bene ed anche ha risposto molto bene effettivamente Pietro al verso 79 gli dice allora udì se quantunque s'acquista giù per dottrina fosse così inteso non lì avria loco ingegno di sofista questo è un bel complimento che fa Pietro a Dante approfittando per sparlare anche dei sofisti che nel mondo confondono la gente quindi dice se tutto quello che al mondo si acquista al mondo è la parola giù del verso 80 se tutto quello che giù nel mondo si impara attraverso la dottrina fosse inteso fosse compreso così bene non ci sarebbe luogo per l'ingegno del sofista perché non avrebbero nessuno che ci credesse allora siccome poi arrivano altre domande io suggerisco di fare la pausa ora e poi continuiamo con questo esame va bene sono le tre meno cinque quindi alle tre ci rivediamo nel frattempo come al solito vi chiedo di inviarmi se ne avete i vostri dubbi alla chat grazie a dopo riprendiamo qualcuno mi chiede di ripetere la spiegazione che riguarda l'argomento allora piuttosto che ripetere ancora cerchiamo di fare una cosa forse più utile cioè tutti tutti i ragionamenti tutte le osservazioni che noi da quando abbiamo cominciato a leggere questo libro abbiamo fatto per quel che riguarda la trinità il rapporto tra padre e figlio la bontà della creazione la bellezza nel creato che è un'orma della generosità di Dio creatore sono tutti ragionamenti sì logistici in alcuni momenti la cui premessa principale è la fede perché se non ci fosse la fede e cioè se non si accettasse l'esistenza di questo non ci si potrebbe ragionare sopra perciò argomento vale appunto premessa parte di un sillogismo premessa principale di ogni sillogismo di ogni pensiero su le cose che non si possono vedere ora è più chiaro? la persona che aveva domandato sta bene? bene ottimo allora continuiamo dal verso 82 l'ultimo che avevamo letto erano le parole di complimento insomma che Pietro aveva espresso nei confronti della grande convinzione di Dante e al verso 82 così sperò di quell'amore acceso indi soggiunse assai bene trascorsa d'esta moneta già la lega il peso ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa allora qui inizia la parte diciamo più personale dell'esame vero? cioè Pietro non si accontenta della definizione di fede ma quello che domanda dice finora è andata molto bene e si serve di una metafora cioè hai mostrato che la lega il peso della moneta la fa diciamo la rende valida ma ora dimmi se nella tua tasca tu ce l'hai e cioè se tu hai questa fede di cui razionalmente conosci bene la definizione e al verso 86 Dante insomma in un modo molto spontaneo con la reiterazione tipica dell'oralità risponde on dio si o si lucide e si tonda che nel suo conio nulla mi si inforsa cioè sì ce l'ho la fede e riprendendo la stessa metafora della moneta che aveva usato Pietro dice ce l'ho così tonda e cioè conservata nella sua forma originaria e così lucida e quindi non logorata dai tanti colpi della vita che il suo conio cioè la validità insomma la veracità di questa fede non mi si inforsa in nulla cioè non ho dei dubbi in proposito non ho dei dubbi di fede no? questo verbo inforsarsi probabilmente di coniazione dantesca vuol dire non entra nel forse no? che è l'avverbio più usuale sinonimo di chissà magari allora ridomanda il professore come erano appunto gli esami all'università al verso 88 ha presuscì della luce profonda che gli splendeva cioè dalla luce dentro la quale c'è il corpo apparente di Pietro uscì questa nuova domanda al verso 89 questa cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda onde ti venne? cioè questo gioiello prezioso come la fede che è la base di ogni altra virtù da dove ti è venuta e dante al verso 91 e io la larga ploia dello spirito santo che diffusi sulle vecchie sulle nuove cuoia e silogismo che la ma conchiusa acutamente sì che in verso della ogni dimostrazione mi pare ottusa allora Dante risponde la lunga pioggia non lunga scusate l'ampia pioggia dello spirito santo che bagna e diffusa sul vecchio e sul nuovo testamento sulle pergamena di entrambe la Bibbia e del Vangelo è un argomento che me l'ha dimostrata con una tale profondità così acutamente che in confronto di quella di quella convinzione ogni altra dimostrazione mi sembra piatta ottusa poco profonda e qua diciamo Pietro comincia a fare un po' se mi permettete in mezzo al paradiso di servirmi di questa espressione d'avvocato del diavolo cioè cerca di mettere in crisi Dante per portarlo a una diciamo un'argomentazione ineccepibile al verso 97 io udì poi l'antica e la novella proposizione che così ti conchiude perché l'hai tu per Divina Favella cioè l'antico il nuovo testamento cioè questi che ti sembrano argomenti così convincenti come lo sai che sono testi ispirati che parola divina cioè come sai che la larga ploia dello spirito santo quella che allaga queste per Damena e Dante risponde al verso 100 e io la prova che il vermi dischiude sono le opere seguite a che natura non scalda ferro mai ne batte in cude cioè la prova che mi apre questa verità cioè la verità secondo cui la Bibbia e il Vangelo sono libri ispirati dallo Spirito Santo sono gli eventi che vi si raccontano le opere seguite che eccedono il modo in cui lavora la natura e questo è detto attraverso la metafora no che la natura se deve operare come un fabbro non riesce a diciamo scaldare il ferro né usare l'incude con questa con questa potenza cioè quello che Dante sta rispondendo è so che sono libri ispirati per i miracoli che si raccontano lì cioè per gli eventi che vi si raccontano che eccedono il modo naturale degli eventi che capitano al mondo se non c'è la divinità dietro e allora Pietro diciamo mette Dante diciamo in una posizione difficile perché gli fa notare che lui ha dovuto giustificare cioè gli ha domandato gli ha domandato perché come come fai a sapere che questi libri sono veri sono veramente ispirati e Dante ha detto per i miracoli che vi si raccontano e allora Pietro gli dice ma i miracoli sono raccontati in un libro la cui verità è quello che devi provare quindi in un qualche modo il tuo ragionamento è circolare non non puoi difendere la verità di un libro sulla base di quello che quello stesso libro racconta appunto al verso 103 gli dice risposto fummi cioè mi fu risposto dice Dante di chi ti assicura che quell'opera è fossero quel medesmo che vuol provarsi non altri ti giura cioè dimmi chi ti rassicura sul fatto che quei miracoli esistettero veramente che quelle opere effettivamente sono vere lo stesso che vuoi provare e non una fonte esterna te lo sta giurando quindi è circolare se tu se tu veramente credi che i libri siano ispirati credi alla loro verità e quindi credi ai miracoli ma se non ci credi anche i miracoli potrebbero essere inventati da un autore altro rispetto allo spirito santo si capisce il ragionamento di Pietro è interessante in tutto questo dialogo come coesistono in un modo armonico la filosofia classica il sillogismo veramente della logica formale tipica dei filosofi anche pagani a proposito di argomenti chiaramente cristiani come la fede e allora Dante risponde a questo apparente diciamo conflitto del suo problema del suo pensiero con un argomento l'argomento principe della dimostrazione appunto dei miracoli che era tanto diciamo quello di Agostino come quello di Tommaso al verso 106 se il mondo si rivolse al cristianesmo di Sio senza miracoli quest'uno è tal che gli altri non sono il centesmo che tu intrasti povero e digiuno in campo a seminare la buona pianta che fuggia vite e ora è fatta pruno allora l'argomento per eccellenza è appunto la diffusione nel mondo del cristianesimo e Dante lo dice così se il mondo si rivolse al cristianesimo anche senza gli altri miracoli solo questo è un tale miracolo che vale cento volte tutti gli altri messi insieme già che e qui coinvolge direttamente Pietro tu senza alcuna risorsa entrasti in campo povero e digiuno a seminare il cristianesimo appunto la buona pianta che una volta fu vite quindi poté crescere rigogliose e ora invece è diventato uno sterpo di spine e cioè Dante sta dicendo se durante le persecuzioni senza alcun mezzo di propaganda senza ricchezze eccetera il cristianesimo si diffuse questo è la prova della verità di Dio perché non c'è spiegazione storica che possa giustificarlo questo è l'argomento insomma della verità dei miracoli allora al verso 112 finito questo l'alta corte santa risonò per le spere un Dio laudamo nella melode che la sussi canta cioè una volta finita questa risposta di Dante tutti quelli del trionfo di Cristo che erano lì cantarono il Tedeum con una melodia tale come è quella che si canta lassù di cui ci ha già detto poco fa che chiaramente nemmeno la sua facoltà immaginativa tornando al mondo la può recuperare e al verso 115 e quel baron che si di ramo in ramo esaminando già tratto ma vea che all'ultime fronte apprestavamo ricominciò allora e quell'uomo cioè appunto Pietro che così tanto mi aveva condotto da un ramo nell'altro verso l'alto come se stessero ascendendo in un albero attraverso le sue domande esaminandomi mi aveva già portato così tanto che ci stavamo avvicinando alle ultime fronde dell'albero ricomincio a parlare al verso 118 la grazia che donnea con la tua mente la bocca t'ha persa infino a qui come aprirsi dovea sicch'io approvo ciò che fuori emerse ma or conviene spremer quel che credi e onde alla credenza tua sofferse allora qui si esplicita questo carattere collaborativo armonico tra filosofia mente razionale e grazia perché appunto Pietro al verso 118 dice la grazia che è innamorata con la tua mente cioè che ha un rapporto di amore con la tua mente ti fece aprire la bocca fin qua come era dovuto quindi hai parlato bene finora così che io approvo quello che la tua bocca estromise ma ora è necessario verso 122 sto parafrasando ora è necessario esprimere quello che credi cioè qual è la materia della tua fede in che cosa credi e da dove si è offerta questa materia alla tua credenza alla tua fede perché Dante finora ha definito la fede a richiesta della prima domanda di Pietro ha detto da dove gli è venuta e diciamo che lui ce l'ha ma ora deve dire in che cosa credi qual è l'oggetto della sua fede e allora Dante riformula la domanda al verso 124 o santo padre e spirito che vedi ciò che credesti sì che tu vincesti per lo sepulcro più giovani piedi comincia io tu vuoi che io manifesti la forma qui del pronto creder mio e anche la cagion di lui chiedesti allora qui Dante diciamo riprende come se dicesse quello che mi hai domandato è questo vero e ora comincio ma nel dirlo c'è di nuovo un vocativo interessante che in qualche modo integra il vocativo che aveva usato Beatrice per rivolgersi a Pietro nel quale vi ricordate ricordava che lui era quello che per fede aveva camminato sul mare ora Dante gli dice o santo padre o spirito che ora stai vedendo direttamente in paradiso quello in cui hai creduto così tanto che hai vinto i giovani piedi di Giovanni verso il santo sepolcro cioè o campione della fede che ora stai potendo vedere direttamente quello che hai creduto con una tali intensità che hai sconfitto i piedi più giovani di Giovanni correndo verso il sepolcro anche qua diciamo si sta recuperando un episodio molto famoso del Vangelo di Giovanni in cui si racconta come dopo aver sentito da Maddalena che il sepolcro di Cristo era vuoto i discepoli corsero a vedere ma in realtà qui non non rimane molto chiaro ma se uno va a vedere il Vangelo il che i lettori cui Dante si rivolgeva non avevano bisogno di andare a vedere perché avevano tutte queste scene molto più fresche di quanto ce l'abbiamo noi in realtà Giovanni che era più giovane di Pietro era arrivato primo al sepolcro perché appunto correva più velocemente come qui è detto per avere più giovani piedi e tuttavia il primo ad entrare e a vedere che effettivamente non c'era il corpo di Cristo lì è stato invece Pietro quindi è interessante proprio il fatto che i due episodi nominati a proposito della fede di Pietro siano legati a una debolezza cioè il primo come dicevamo al momento in cui crede insomma in mezzo ai venti si spaventa deve essere salvato da Cristo sul mare no e il secondo al fatto che essendo più vecchio curra diciamo meno velocemente di Giovanni proprio per questo diciamo gli studiosi si sono sempre domandati da dove da dove deriva a Pietro questa autorevolezza per essere appunto il maestro che interroga Dante sulla fede e probabilmente sia significativo appunto questo cioè il fatto che in entrambi i casi si tratta di episodi in cui Pietro non era quello più dotato di fede e tuttavia aveva sconfitto la debolezza forse questo appunto il fatto che non abbia avuto una fede sempre salda e un piede verso il sepolcro così veloce come altri lo rende idoneo per rappresentare la fede come se Dante ci volesse dire che chi ha avuto debolezze lentezze dubbi e ha recuperato la fede ha un'autorevolezza maggiore rispetto a quello che è stato sempre senza dubbi perché il fatto di poter tornare con flessibilità è qualcosa che umanamente rende possibile la virtù nel mondo è la stessa immagine io adesso l'ho usata recuperando l'immagine bellissima del primo canto del purgatorio non so se vi ricordate del giunco che rappresenta l'umiltà e che da quello che spiega Catone a Virgilio e Dante cresce adimo adimo cioè nella parte più bassa dell'isola del purgatorio dove c'è fango laddove nessun'altra pianta che indurasse o facesse fronda cioè che avesse un tronco rigido oppure una fronda di cui menar vanto potrebbe crescere perché come dice Catone ai colpi del mare alle onde non seconda cioè non ha la flessibilità di assecondare il movimento del mare che chiaramente rappresenta il peccato come nel primo canto dell'inferno che è paragonato il mare con la selva oscura e rimettersi di nuovo nella sua verticalità sembrerebbe che il personaggio di Pietro stesse rappresentando un qualcosa di simile per quel che riguarda la fede allora torniamo ai versi qui Dante dice oh Santo Padre che adesso vedi quello in cui hai creduto così tanto che hai sconfitto i piedi più giovani nella strada verso il sepolcro tu vuoi che io manifesti la forma cioè l'essenza nella quale crede la mia fede e anche la causa di quel mio credere e io rispondo verso 130 e io rispondo io credo in uno Dio solo ed eterno che tutto il cielo muove non moto con amore e con disio questo è il credo di Dante dove convivono perfettamente il Dio degli ebrei cioè il Dio giudeo che poi nel resto della dichiarazione di Dante diventerà perfettamente cristiano ma per ora sta diciamo mettendo insieme in un solo Dio solo ed eterno quindi uno è eterno la sola esistenza eterna no? perché tutto il resto anche quello che Dio creò all'inizio è sempre eterno perché ha un'origine ma non avrà fine mentre invece Dio è il solo eterno perché esiste da sempre questo che è chiaramente diciamo il Dio giudeo e poi anche cristiano convive perfettamente con l'idea aristotelica del motore immobile che era apparso fin dall'inizio del libro che tutto il cielo muove non moto cioè che non muovendosi in moto muove tutto il cielo con amore e con disio questa quest'ultima parte del verso 132 è molto interessante perché noi sappiamo fin dall'inizio del libro che Dio crea l'universo con amore e lo mette in moto quindi con amore quindi l'inizio del movimento visto che Dio è in moto immobile è l'origine del movimento che caratterizza l'intero universo qui nominato mettonimicamente attraverso il cielo ma chiaramente tutto si muove tutti i cieli si muovono per l'amore di Dio che li mise in moto ma anche come specifica la parola disio dopo il desiderio per il desiderio di ricongiungersi con Dio che è quello che mantiene in movimento i cieli e ora passa Dante al verso 133 a rispondere alla seconda parte della domanda cioè la cagionce da dove gli viene questo oggetto della fede e a tal creder non ho io pur prove fisiche metafisiche ma dalmi anche la verità che qui ci piove per Moise per profeti e per salmi per l'Evangelio e per voi che scriveste poiché l'ardente spirito vi fealmi allora e di tale credenze io non ho soltanto prove fisiche e metafisiche cioè non solo me lo insegna la filosofia ma me lo dà anche la verità che da qui dal paradiso piove attraverso Moise come autore del Pentateuco attraverso i libri profetici della Bibbia e dei libri poetici salmi attraverso il Nuovo Testamento e attraverso le vostre epistole cioè quello che voi voi apostoli avete scritto una volta che lo spirito ardente divino vi fece santi quindi vedete come Dante integra cioè io credo in un solo Dio immobile che muove tutto l'universo non solo attraverso la filosofia ma anche attraverso l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento e appunto a proposito del Nuovo Testamento al verso 139 aggiunge la parte più prettamente cristiana della sua fede e credo in tre persone eterne eterne e questo e queste credo un'essenza si une si trina che soffra congiunto sono ed esse ed este allora credo in tre persone eterne questa è la parte chiaramente del Vangelo la parte cristiana e credo che queste tre persone siano un'essenza così una e così trinita così trinaria che ammette insieme la prima persona scusate la terza persona singolare e la terza persona plurale cioè e qui dette este e sono cioè di Dio si può parlare al plurale al singolare perché è uno ed è trino coesistenza diciamo in tre persone di tre persone in un'essenza che è uno dei maggiori misteri del del cristianesimo che è poi uno degli ultimi che a Dante si riveleranno quando vedrà Dio direttamente alla fine del suo viaggio e al verso 142 della profonda condizione divina che io toccomo la mente mi sigilla più volte l'evangelica dottrina cioè di quest'ultima condizione profonda nascosta divina di cui sto parlando ora mi sigilla la mente più di una volta la dottrina scritta nei vangeli questo è il principio questa è la favilla che si dilata in fiamma poi vivace e come stelle in cielo in me scintilla allora qui Dante finendo una risposta filosofica molto ben fondata si permette una bellissima metafora stellare dice questo è il principio cioè la dottrina del vangelo questa è la scintilla che si dilata in una fiamma viva dopo in un incendio e che sfolgora nella mia mente come una stella in cielo bellissima immagine della fede dentro la propria mente e allora qua finito è finito l'esame sono finite le parole di risposta di Dante e San Pietro celebra Dante e questa celebrazione si propone ancora attraverso una similitudine al verso 148 come il signor che ascolta quel che piace cioè come il signore feudale si capisce no che ascolta una buona notizia da India abbraccia il servo gratulando per la novella tosto che si tace e dopo aver sentito la buona notizia abbraccia il servo che gliel'ha portata congratulandosi insieme a lui per la buona nuova una immediatamente quando il servo ha finito di parlare tace nello stesso modo verso 151 così benedicendomi cantando cioè benedicendomi perché avevo fatto bene l'esame della fede con il canto tre volte cinse me siccome otacqui l'apostolico lume al cui comando io avea detto sì nel dirgli piacque allora così invece di abbracciarlo la luce di Pietro quello che fa è girare tre volte attorno a Dante non appena Dante non parla più cantando e il soggetto è appunto questo la luce dell'apostolo per la cui indicazione io avevo avevo parlato così gli piacqui nel dire cioè così tanto piacere gli diede la mia risposta questo finale molto bello soprattutto se lo allacciamo alla alla similitudine con la quale si era aperto l'esame con un esame all'università cioè è bella la felicità del maestro quando ha capito quanto è preparato lo studente vero che effettivamente chi di noi è docente anche in situazioni nelle quali facciamo esami è vero cioè quando possiamo dare un 10 quando noi docenti vediamo che lo studente è preparato è una gioia condivisa no? tra maestro e alunno e quindi è bella quest'ultima metafora della buona nuova della buona notizia perché è come se lo studente mostrando tutto quello che ha studiato mostrando quanto è preparato e quanto sia personalmente coinvolto no? perché lui è stato domandato della sua fede non solo di qualcosa che ha studiato ma di quello in cui crede questa è una buona notizia per il maestro vero? allora come un signore che celebra la buona nuova che gli porta l'alunno anche il docente celebra cantando lo rileggiamo? certo il fatto anche una cosa che ho dimenticato di dirvi il fatto che Pietro giri attorno a Dante tre volte probabilmente sta annunciando che questo è stato il primo dei tre esami effettivamente come vedremo la settimana prossima Dante dovrà affrontare e ce lo racconta nel canto 25 l'esame sulla speranza e poi nel 26 sulla carità che sono anche quelli canti bellissimi lo rileggiamo? posso da l'izio a letto alla gran cena del benedetto agnello il qual vi ciba sì che la vostra voglia è sempre piena se per grazia di Dio questi preliba di quel che cade della vostra mensa prima che morte tempoli che prescriba ponete mente all'affezione immensa e roratelo alquanto voi bevete sempre del fonte onde viene quel che i pensa così Beatrice e quelle anime liete si ferospere sopra fissi poli fiammando volte a guisa di comete e come cerchi in tempra d'ori uoli si gira anzi che il primo che il primo a chi ponmente quieto pare l'ultimo che voli così quelle parole differentemente danzando della sua ricchezza mi facie non stimare veloce e lente di quella che io notai di più carezza vidì uscire un fuoco si felice che nullo vi lasciò di più chiarezza e tre fiati intorno di Beatrice si volse con un canto tanto divo che la mia fantasia non mi ridice però salta la penna e non lo scrivo che l'immagine nostra cotai pieghe non che il parlare è troppo color vivo o santa suora mia che si ne prieghe divuta per lo tuo ardente affetto da quella bella spera mi disleghe poscia fermato il fuoco benedetto alla mia donna dirizzò lo spiro che fa velo così com'io detto ed ella o luce eterna del ganviro a cui nostro signor lasciò le chiavi che i portò giù di questo gaudio miro tenta costui di punti lievi e gravi come ti piace intorno della fede per la qual tu su per lo mare andavi se li ama bene bene spera e crede non te occulto perché il viso equivido ogni cosa dipinta si vede ma perché questo regno ha fatto civi per la verace fede a gloriarla di lei parlare benché a lui arrivi siccome il bacciallier sarme non parla finché il maestro la question propone per approvarla non per terminarla così mi armava io d'ogni ragione mentre che la dicea per esser presto a tal coerente e a tal professione ti buon cristiano fatti manifesto fede che è onde io levai la fronte in quella luce onde espirava questo poi mi volsi a Beatrice ed essa pronte sembianze femmine per chi ospandessi l'acqua di fuor del mio interno fonte la grazia che mi dà ch'io mi confessi comincia io dall'alto primipilo faccia i miei concetti bene espressi e seguitai come il verace stilo ne scrisse padre del tuo caro frate che mise te coroma nel buon filo fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi e questa pare ammesso a que di date allora udì dirittamente senti se bene intendi perché la ripuose tra le sostanze poi tra gli argomenti e io appresso le profonde cose che mi largiscono qui la loro parvenza agli occhi di laggiù sono sia scose che l'esser loro ve in sola credenza sopra la qual si fonda l'alta spene e però di sostanza prende intensa e da questa credenza ci convene silogizzar senza avere altra vista però di intensa d'argomento tene allora udì se quantunque s'acquista giù per dottrina fosse così inteso non gli avria l'occhio ingegno di sofista così sperò di quello amore acceso indiso giunse assai bene trascorsa desta moneta già la lega in peso ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa on dio si io si lucida e si tonda che nel suo conio nulla mi si inforsa appresso uscì della sua luce profonda che gli splendeva questa cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda onde ti venne e io la larga ploia dello spirito santo che diffusa sulle vecchie sulle nuove cuoia essi logismo che la ma conchiusa acutamente sì che inverso della ogni dimostrazione mi pare ottusa io io di io l'antica e la novella proposizione che così ti conchiude perché l'hai tu per divina favella e io la prova che il vermi dischiude sono opere seguite a che natura non scalda ferro mai ne batte in cude risposto fummi di chi t'assicura che quell'overo fosser quel medesmo che vuol provarsi non altri ti giura se il mondo si rivolse al cristianesmo dissi io senza miracoli quest'uno è tal che gli altri non sono il centesmo che tu intrasti povero e digiuno in campo a seminare la buona pianta che fuggia vite e ora è fatta pruno finito questo l'alta corte santa risonò per le speri un dio laudamo nella melode che lassù si canta e quel baron che si di ramo esaminando già tratto mavea che all'ultime fronde appressavamo ricominciò la grazia che donnea con la tua mente la bocca t'a perse e infino a qui come aprirsi dovea sicch'io approvo ciò che fuori emerse ma or conviene spremer quel che credi e onde alla credenza tue sofferse o santo padre spirito che vedi ciò che credesti sì che tu vincesti verlo sepulcro più giovani piedi comincia io tu vuoi che io manifesti la forma cui del pronto creder mio e anche la cagion di lui chiedesti e io rispondo io credo in uno dio solo ed eterno che tutto il cielo muove non moto con amore con disio e a tal creder non ho io pur prove fisice metafisice ma dalmi anche la verità che quinci piove per Moise per profeti e per salmi per l'Evangelio e per voi che scriveste poi che l'ardente spirito vise almi e credo in tre persone eterne queste credo un'essenza si une si trina che soffra a congiunto sono ed este nella profonda condizione divina che io tocco mo la mente mi sigilla più volte l'evangelica dottrina questo è il principio questa è la favilla che si dilati in fiamma poi vivace e come stelle in cielo in me scintilla come il Signor che ascolta quel che piace da india braci il servo gratulando per la novella tosto che si tace così benedicendomi cantando tre volte cinsemessi come otacqui l'apostolico lume al cui comando io avea detto si nel dirgli piacqui grazie dell'attenzione come al solito ci vediamo la settimana prossima arrivederci